Buongiorno a tutti ragazzi, nel podcast di oggi parliamo di S&P 500, di rebalancing di fine mese e di momentaneo stop al buyback. Allora, vi ho fatto vedere un po' il grafico dell'S&P 500. A mio avviso uno dei target più interessanti per l'S&P 500 è il livello di 4.600. Però ci sta arrivando in maniera troppo veloce e quindi c'è il rischio che ci possa essere una prima pausa di ritracciamento in area 4200 per poter prendere un po' di ossigeno e scaricare un po' gli indicatori e per poter continuare. Se questo dovesse accadere, cosa che secondo me potrebbe essere probabile ma non certa, ovviamente farebbe sì che tutti quelli che sono short dicano che bella hai visto finalmente short e sono quelli che fondamentalmente abbiamo bisogno che entrino perché l'indice possa andare ancora più in alto. Perché poi farebbe un po' di discesa, poi si salirebbe su, dovrebbe chiudere gli stop e gli permetterebbe di andare a famosi 4.600 o anche magari a 4.800. Questa è un po' la mia visione. Che cos'è che potrebbe favorire questo fenomeno? Allora, la forte salita dei listini in quest'ultimo periodo ha fatto sì che a livello trimestrale ci sono dei fondi che devono mantenere delle proporzioni tra quello che investono nel settore dell'equity rispetto a quello che investono nel settore dei bond. Quindi faccio un esempio magari molto stupido però aiuta a comprendere meglio il concetto. Se io devo avere una percentuale di 60-40 se io ho la mia percentuale di equity che è salita di 20 punti percentuali è evidente che devo vendere dell'equity per andare a ribilanciarmi sui bond. Ecco, i calcoli che sono stati fatti, che vengono fatti da una società, investitori eccetera eccetera, dimostrano che questo ribalancing sarà un ribalancing abbastanza importante. Cioè il quantitativo di denaro che deve uscire dall'equity per andare verso i bond semplicemente per un ribalanciamento di natura tecnica è di una certa entità. Quindi ancora una volta viene fuori che in questo contesto storico in cui viviamo grandi movimenti, grandi violenze, grande tutto quanto creano a volte anche solo per delle tecnicalità come questo necessariamente dei volumi che possono uscire dal mercato azionario per essere costretti ad entrare nel mercato obbligazionario. Questo è un po' un primo tema. Un altro tema molto interessante che magari non so se è così conosciuto, le company che hanno deciso di fare i vari buyback, quindi Google, Microsoft, Apple e bla bla bla, devono interrompere i loro buyback durante il periodo che antecede la comunicazione delle trimestrale. Per non fare una sorta di insider trading, nel senso che loro magari conoscono tutta una serie di dati e che quindi potrebbero spingere maggiormente il buyback per fare più denaro. Per evitare questo fenomeno, dentro un certo periodo, e quindi siamo adesso dentro questo periodo, devono chiudere il loro buyback e poi lo possono riaprire neanche subito e immediatamente il giorno dopo l'uscita delle trimestrali, ma mi sembra che deve passare una settimana dall'uscita dei dati. Questo morale per dire che cosa? Che da una parte abbiamo dei rebalancing che devono essere fatti dai fondi, dall'altra abbiamo dei buyback, questo potrebbe portare nel brevissimo termine una contrazione della quantità di liquidità che può entrare sul mercato. E quindi potrebbe essere tutto questo propedeutico ad un potenziale ritracciamento dei listini. Detto questo, poi ognuno deve, come sempre, applicare la sua strategia in rapporto al portafoglio, in rapporto alla propensione al rischio, in rapporto a tutta una serie di robe che deve andare a definire da solo o con l'aiuto di qualcuno se non è in grado di farlo. E questo è un elemento molto importante, perché come dico sempre è importante capire la direzione, ma se si sbagliano anche le size, quindi i pesi, le misure, diventa un gran casino. Questo è un tema che deve essere assolutamente preso in considerazione. Così vi condivido una mia personale opinione su quello che ho fatto nel mio portafoglio, ossia ho chiuso il Nasdaq, ho chiuso l'indice perché a mio avviso siamo saliti molto, è un indice che ha fatto bene benissimo e per i miei modelli di rischio cominciamo ad essere in un'area di rischio troppo elevata. Questo non vuol dire che ci sia un crollo, non è da escludere che se faccio un bel ritracciamento posso rientrare, però per esempio il Nasdaq me lo sono portato a casa, magari perderò ancora un po' di salita, pazienza, però ho fatto una performance super, sono super contento, sono super felice perché mi devo andare a creare mal di pancia. Quindi questa è un'operazione che ho fatto recentemente. E basta, poi dopodiché vengono fatte tutta un'altra serie di operazioni sui singoli titoli invece che ritengo essere interessanti, alcuni ve li ho segnalati, altri per chi ha fatto il check up del portafoglio li potranno essere segnalati e vediamo come evolve il tutto. Come sempre, dubbi e domande potete mettermi nei commenti, vi mando un abbraccio.